con questo tutorial inseriremo un piccolo clip all'interno di un progettino iniziamo col trasferire la prima foto clicco due volte per trascinarla nella timeline clicco al suo interno per attivarne il livello e mi setto subito un secondo lo slide e un secondo la transizione questo perché occorre solo da presentazione e ci vuole quindi un tempo breve trascino il clip nella postazione numero 2 aspetto che carichi e adesso voglio trasferire la stessa foto che ho inserito all'apertura come chiusura quindi clicco di destro copio e incollo come vedete ho incollato anche la disposizione dei secondi non ci resta che applicare lo style che ho scelto questo style è molto carino è una sequenza di tre cornici e se non dovessi averlo e ti piace in modo particolare me lo chiedi e te lo spedisco clicchiamo su style in ordine alfabetico cerchiamo il nostro style clicco al suo interno per attivarne il livello poi clicco su applica e alla finestra che si apre confermo come ti dicevo ci sono tre cornici uno, la seconda è questa e l'altra viene dopo in sequenza quindi cerchiamo i livelli delle tre cornici questa è la terza, questa è la seconda e questa è la prima le altre non ci interessano perché sono state create dallo style e fanno parte dell'ombra, del gradiente, dello sfondo quindi immagine 1 seleziono, mi cerco il mio clip lo apro aspetto che carichi lo stesso andrò a fare dopo che ecco è completato lo stesso procedimento seleziono, apro e confermo potremmo già vedere l'anteprima qui però voglio interessarmi prima del titolo così dopo apriremo una sola volta la finestra anteprima e lo vedremo completo in poche parole quindi dobbiamo cliccare su titoli di titoli ne abbiamo due questo è il primo e questo è il secondo camminano su due livelli completamente diversi questo significa che ipoteticamente possiamo dare la stessa formattazione come può essere completamente diversa cancelliamo il primo testo scritto dal programma e andiamo a scrivere il nostro aggiustiamo un poco la misura scegliamo un bel font aggiustiamo un poco e occupiamoci del colore qui vedete il pennino con il mouse lo prendiamo lo trasciniamo lo trasciniamo e andiamo a prendere un colore dalla nostra cornice ci diamo un'ombra possiamo mettere anche una misura leggermente più grande perfetto occupiamoci del primo livello cancelliamo quello impostato e scriviamo il nostro o voglio darci un un font diverso poi mi occupo della misura mi piace questo font io ne ho moltissimi ma proprio tanti neanche questo mi piace vediamo questo ah quanto è brutto niente da fare no 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 uno più brutto dell'altro sto scegliendo perché poi quando il tempo è poco sembra proprio fatto apposta occupiamoci del colore prendiamo il nostro pennino e diamo la nostra ombra un poco poco di vivacità confermo questa volta possiamo vedere l'animazione completa mi porto sul primo fotogramma e interrogo la finestra anteprima a me è piaciuto non so a te ad ogni modo volevo dirti che nella descrizione della intanto che parlo facciamo scorrere un po' l'anteprima nella descrizione del video c'è un link che ti porta al mio sito troverai altri tutorial e poi non so se l'ho detto mi pare di sì nel caso questo style tu non lo avessi e ti piace mi scrivi e te lo faccio avere il tutorial è terminato un po' Grazie.